2N. Gli arredamenti che vivono con te. Per la tua casa. Per i negozi e le attività commerciali che frequenti. Per il tuo albergo preferito. Realizziamo fedelmente tutte le idee del tuo architetto. Produciamo accessori, prototipi e semi lavorati per l'industria del mobile. Ti aspettiamo alla 2N. Gli arredamenti che vivono con te.